Romney nei panni dell'attaccante e Obama in solida difesa, con una full immersion nei problemi dell'America in crisi, collezione di economia e politica interna. Il primo dibattito televisivo tra il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e il candidato repubblicano Mitt Romney, che si è svolto a Denver, in Colorado, si è concentrato sulle ricette economiche sia democratiche che repubblicane. I contendenti si sono distinti, oltre che nei contenuti, nell'atteggiamento, Romney in attacco e Obama in solida difesa. Strategie che derivano sicuramente dal vantaggio che il presidente uscente detiene e dalla volontà dello sfidante di recuperare le numerose gaffe fatte in campagna elettorale. Ma anche la strategia della cautela adottata dal presidente è stata uno sbaglio, scrive oggi la CBS, pubblicando i risultati di un sondaggio a caldo realizzato su 523 elettori neutrali. Il 46% ha infatti indicato il vincitore nel candidato repubblicano, contro il 22% che ha scelto Obama. Tra due settimane il secondo round a New York e si vedrà che cosa faranno gli sfidanti per conquistare il voto degli indecisi.